Mi domando una cosa, per quale motivo devo mandare in Europa qualcuno che invece cercando di invadere tutta la provincia con il suo bel faccione, per quale motivo il mio voto e il voto dei giovani deve andare a qualcuno che in Europa di sicuro l'ecologia non la porterà? La realtà, chi porta certi personaggi in Europa non mi piace fare nomi a cognomi, non servirebbe a nulla su quei manifesti, potrebbe esserci scritto anche Peppa Pig. Prima di mettere quella X, cerca di capire il tuo voto a che cosa servirà, chieditelo per quale motivo tanti soldi in campagne elettorali, non è una semplice X, magari lo fosse, ma la tua X manderà una di queste belle facciote in Europa a coprire le sue lobby, loro sorridono perché tu un giorno piangerai, usa la tua X con cognizione, il tuo voto farà male anche a me. E se tutto fa male a me.